Esercitazioni militari tra Giordania e statunitensi, ufficialmente per rafforzare la sicurezza regionale. Iger Lion è un test annuale cui partecipano 19 paesi, tra cui l'Italia. Quest'anno assume un significato diverso, vista la situazione nella vicina Siria, dove prosegue l'offensiva delle forze governative contro i ribelli. A Kuera, nel sud della Giordania, vicino al porto di Aqaba, un migliaio di soldati hanno compiuto manovre congiunte. Le esercitazioni sono un modo eccezionale per promuovere la sicurezza regionale ed è quello che cerchiamo di fare. Puntiamo a sviluppare le nostre relazioni con i colleghi giordani, con le nostre controparti nella Marina Giordana e nella Brigata Giordana. Cerchiamo di mostrare che possiamo cooperare. Le esercitazioni coincidono con la decisione del Pentagono di lasciare in Giordania i missili Patriot e i caccia F-16 che difenderebbero il paese da un eventuale attacco da parte della Siria. Il presidente statunitense Obama ha affermato di recente che Damasco, usando armi chimiche, ha superato la linea rossa senza però parlare di intervento militare.